sta arrivando Zana nell'area di rigore della Roma alzato il braccio Zana possesso palla alla parte opposta della Lazio con Mauri, Candreva Mauri Mauri fa viaggiare ancora Candreva è partito il traversone Lobons e poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio al 26esimo minuto del secondo tempo Lazio 1 Roma 0 sull'incertezza di Lobont sbloccato il derby la Lazio in vantaggio Lazio imbattuta nelle ultime due stagioni compresa questa